allora qua ci sono le principesse non spiego tutto però qua ci sono i tupini qua c'è il tupolino con tupolino va bene andiamo a aprire voglio scoprire subito che carini guardate adesso non impassire mamma mia sta impassendo qua per costruire una tartaruga e questo per costruire un pezzo adesso l'ho capito andiamo a vedere altre cose questa è una mascherina guardate poi 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 il poster guardate il poster che carino il poster da colorare dietro e poi questo che carino poi vediamo se c'è un altro poster si c'è un altro poster guardate prima non era una mascherina ma devi costruire il pezzo la tartaruga ti viene così il pezzo ti viene così l'altro pezzo ti viene così va benissimo mi piace un sacco questa roba questa è la tartaruga che devi costruire aspettatemi ecco qua molto carino questa sorpresa la tartaruga poi vediamo che c'è ohhhh ahies da colorare eh la tartaruga ohhhh wow bello scoprire insieme queste sorprene oh i pepini sono molto dolpi bellissime 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 ecco andiamo avanti poi che cos'è? sono come si chiamano i pastelli poi 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 c'è wow è molto veramente finto colorato wow ho fatto bene proprio a prenderla questa sola presa surprise si era sempre un play set proprio un play set dove si apre tutto il quadretto oh anche questo è un altro poster da colorare qua ti dico queste sono le misure bla 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 è bbra vi dice vediamo se c'è un'altra cosa un po' ce a tenere un scontento che c'è fa scusa va bene questa è la busta qua dentro è come si costruisse qua La costruisco, poi ve la faccio vedere già costruita, va bene? Sì, a me!